ancora carichi tante cose belle da raccontarvi e sì una di quelle di queste cose belle è sicuramente il prossimo brano anzi il prossimo film che vi raccontiamo in anteprima anche se ne abbiamo già parlato con Emanuele Rauco citato poco fa in occasione dello speciale musica da film fatto qualche settimana fa e stiamo parlando esattamente di Animal Kingdom mi azzardo a dirlo in originale Le Regne Animal immagino di sì forse film francese che ha portato al César Andrea Lazzolo De Simone e ha vinto Andrea Lazzolo De Simone per la composizione della colonna sonora regia di Thomas Cailly credo una cosa simile e vabbè avete capito che è un film francese perché non riusciamo a pronunciare un nome che sia uno in maniera accettabile un film piuttosto sorprendente e veramente con una con un impatto visivo particolare la storia è quella di un mondo in cui a un certo punto per motive non precisate non raccontati alcuni esseri umani iniziano a trasformarsi in animali in animali diciamo antropomorfi cioè non completamente sì completamente animali ma si capisce che sono stati esseri umani non so come come dirlo potete scomodare l'X-Man più o meno è bravo sì esatto e quello che succede diciamo noi arriviamo un po in media stress nel senso che le cose stanno già accadendo da un po di tempo e c'è effettivamente una parte di umanità che si inizia che si trasforma e poi invece c'è una parte di umanità che resta com'è credo perché poi non sappiamo se questo fenomeno è un fenomeno che prima o poi coinvolgerà tutti oppure solo alcuni e non si sa perché però fatto sta che bisogna trovare un po una un modo di convivere no a livello proprio sociale esatto la i protagonisti sono i componenti di una famiglia un padre un figlio e una madre che capiamo subito dall'inizio del film essersi trasformata si sta trasformando e come succede a molti di queste di questi esseri umani in trasformazione è stata rinchiusa in una sorta di centro vi ricorda qualcosa una cosa qualcuno di diverso che viene da un altro mondo che viene rinchiuso in dei centri dalle alte mura di cemento esatto un centro appunto dove cercano un po di gestire queste trasformazioni di cui non si sa ancora molto per cui non si sa bene come evitare che le persone soffrano perché un po diciamo la trasformazione in animale non è indolore no è un qualcosa iniziano a spuntare artigli a crescere piume ali in alcuni casi e quindi questi questo padre e questo figlio che gestiscono un po questa situazione come possono quindi da una parte vorrebbero avere accanto a sé accanto a loro questa mamma però vogliono anche che sia protetta che sia curata tra virgolette ammesso che si possa curare no una forma di diversità ecco e hanno contemporaneamente a che fare con un mondo che si dimostra abbastanza ostile a questi esseri umani animali che cerca di appunto rinchiuderli abbatterli perché ha paura paura che possano aggredire paura che possano mangiare gli altri animali per esempio gli allevamenti paura in generale questa è la storia non vorrei dirvi di più perché poi rischiamo di rovinare tutto e la resa è in alcuni punti forse un pochino ingenua su alcune cose c'è un po fumettistica però credo che sia più che altro un discorso di anche un discorso di target di target non so sì più che sì sì credo sia proprio voluto dalla da chi ha costruito sia il film che toman se li è sia il regista che il scienziatore insieme a pauline monier credo vado proprio su gusci di uova per la pronuncia ma è il bello del film questo approccio un po young adult perché il rapporto padre figlio è il il veicolo su cui noi spettatori veniamo caricati il tutta la storia tutta la l'impianto sociologico sociale che questi due personaggi affrontano e attraversano è proprio il punto di vista da cui vediamo la storia il più nello specifico noi siamo proprio attaccati al personaggio del figlio figlio che appunto ha banalmente un problema in famiglia un rapporto padre figlio ma anche madre figlio complicato la stessa lo stesso vedere il problema tra i genitori è appunto una una delle variabili in campo interessante anche il inserire problemi quotidiani ad un contesto straordinario appunto è un una un classico del genere molto interessante appunto questo approccio il cambio della scuola cosa comporta il cambio del del luogo da parigi luogo caotico banalmente il film inizia con una scena clamorosa che però viene sorprende i protagonisti gli spettatori in un contesto assolutamente ordinario quindi il film ha questo questo anche appunto questa volontà di essere semplice non c'è tantissimo non è chiarissimo appunto cosa succede intorno perché successo diciamo che loro vogliono metterti un po in mezzo alla situazione che è già iniziata e che gli uomini e le donne stanno cercando di affrontare la polizia sta cercando di capire come gestire queste questi animali se sono pericolosi o meno perché comunque danno per scontato che l'istintualità dell'animale corrisponda ad una pericolosità cosa che insomma non è non è detta no ma lo sappiamo anche proprio con gli animali cioè non è che gli animali per forza devono far del male a maggior ragione insomma in una in una situazione di relativa pace no invece qui c'è un clima di angoscia di ansia perché appunto non si sa gestire questa situazione c'è una forza di polizia che mi sembra abbastanza inefficiente inefficace come in molti casi è nella realtà non ci capiscono granché sono un po in balia del pregiudizio della popolazione per cui se la popolazione a izza e va in giro con le armi si chiama l'esercito si chiama ad esercito esatto si chiama l'esercito e l'esercito però non è che sa bene come organizzarsi lo rappresenta ad el ex arcopulos esatto che è quella del la protagonista della vita del che si porta a rielo l'essere completamente inespressiva in questo caso è fissa è veramente fissa comunque un personaggio così di contorno però rappresenta bene il il come il protagonista emil appunto il ragazzo vede la confusione dei grandi sì esatto è una fondamentalmente un po non sa bene che deve fare neanche lei anche se rappresenta un po le forze dell'ordine che dovrebbero gestire organizzare dare soluzioni ma non ci sono soluzioni da dare no perché è una situazione in continuo mutamento e loro ovviamente diciamo che questa famiglia è tendenzialmente positiva rispetto a questi animali perché la mamma fa parte no si sta trasformando quindi loro non fanno parte di coloro che hanno dei pregiudizi anzi cercano c'è un avvicinamento a un certo punto con un altro di questi animali che non è la madre ma un altro ragazzo c'è anche un avvicinamento del padre verso i i trattamenti del appunto torniamo nel nord europa loro fanno così in scandinavia fanno così si cerca di trovare una convivenza loro sono per la convivenza per il l'integrazione ma una parola che non amo perché vuol dire che uno deve diventare uguale agli altri per essere integrato no ecco il punto è questo sono effettivamente diversi che si fa si convive si diciamo cerca di trovare la potenzialità quindi questi in fondo sono esseri esseri umani che stanno acquisendo delle capacità che gli esseri umani non hanno possono volare per dirne una no allora questa è una cosa buona una cosa cattiva mi arriva addosso oppure è bello vedrà vedere che un uomo sia in grado di volare e questo è un po il senso immaginatevi l'inizio di the walking dead dove appunto il protagonista si sveglia al un po tipo un apocalisse zombie ma non con gli zombie con però ecco cioè nel caso degli zombie la valenza negativa è evidente perché lo zombie ti attacca perché vuole mangiarti punto in questo caso non c'è assolutamente un essere scontati nella propria malevolenza cioè non è che gli animali per forza sono tendenzialmente molto spaventati perché ovviamente stanno gestando una trasformazione del corpo difficilissima oltre ad una caccia esatto sono spaventati perché poi arrivano questi coi fucili e loro devono scappare esatto esatto il l'impianto è vi ricordo vi ripeto imdb e addirittura consiglia una fascia da sei anni in su quindi non anche se ha delle tinte un po avventura drammatica e horror leggo sempre le tag le etichette che imdb affida a il regno animal kingdom il regno animale la l'approccio è appunto spostato e il punto di vista è proprio sul sul figlio sul prognosti il ragazzo quindi una un'età ipotetica di fondo anche l'adolesce il passaggio da adolescenza ed a ed a adulta è un una trasformazione grossa trasformazione fisica ti escono i peli in effetti è molto simile a una trasformazione animale ti crescono le unghie e anche la l'animale l'animale anche più più ribelle no esatto istintivo questo forse questo questa ricerca dei sottotesti e anche un po la fumosità dei sottotesti e credo per quanto mi riguarda il punto debole del film perché ok il centro dall'alto dalle alte mura ricama qualcosa e specialmente quelle quelle strutture quelle scritte su quei muri e anche l'ambientazione la vicinanza con il confine la il dialogo con la natura e la fuga nella natura non ho caso anche la scelta dei poster dell'idea della comunicazione visuale racconta molto quanto l'uomo è dentro una folta chioma verdeggiante ma questo uomo quanto uomo è quanto animale e il film poi si chiama il regno animale quindi c'è un po di prudenza mettiamola così nel schierarsi o comunque nel porre banalmente questa malattia che che malattia è una malattia infettiva richiama il covid non richiama il covid di qua e di là insomma nella testa dello spettatore nella mia testa in primis poi mi confermerete se vorrete vedere questo film se è una mia un mio avveneggiamento completo sono apertissimo ma comunque la il godimento dei sottotesti è sempre un po messo da parte a vantaggio di un godimento dell'azione più libera molto spesso la camera il protagonista si perde in fughe che un po anche vanno a spezzare il ritmo non sempre tesissimo della del film sono due ore otto minuti sono anche ben bilanciate ma comunque ogni tanto il racconto si incastra su su alcuni passaggi il racconto è estremamente appunto come vi abbiamo detto compresso nel tempo racconta questi due personaggi in mettiamo poche settimane perché appunto il il film appunto ci porta proprio nella la loro vita sulle loro spalle nota sicuramente se ad elix arcopulos è stata definita da flavia fissa e inespressiva è un po fissa si romanduri sicuramente non il protagonista il padre di anche anche ragazzo anche paul perché sono sicuramente i volti con cui la macchina da presa gioca di più molto interessante l'uso della l'uso tra virgolette gentile e anche integrato con volti non non assolutamente sformati dalla dal trucco prostetico i le persone hanno dei corpi sono delle assomazioni credibili plausibilissime sicuramente la cosa più bella di questo film che io vi consiglio di andare a vedere al cinema ovviamente per l'impianto visivo ma ovviamente visto che andrea lazlo de simone ha vinto il cesar sicuramente la le casse dell'impianto del cinema vi regalerà molto di più di un ascolto e di una visione domestica devo dire che però non ho sentito tantissimo il l'importanza anzi no il le composizione la composizione della lazlo de simone non esce fortissimi simissima dal film viene un po incastrata in alcuni in alcuni momenti francamente mi aspettavo un uso della corona sonora differente ma appunto era un pregiudizio mio completamente arbitrario è anche abbastanza dettato da dalle aspettative che appunto sono sono quelle sono quelle che appunto una persona prima del dell'inizio dell'acquisto del del biglietto è completamente scegliere film a scatola chiusa vi stiamo parlando di the animal kingdom il film uscirà tra pochissimi giorni al cinema esattamente il il 12 no il 13 di giugno noi iniziamo a raccontarvi dei film con un pochino di anticipo e quindi avete anche il tempo di scegliere quelli che volete oppure quelli che non volete fateci sapere se questo inter questa recensione vi ha colpito io vi rinfresco la memoria non scegliendo un brano di andrea lazlo de simone ricordiamo italianissimo compositore vivo è il suo la sua hit del 2001 avete sentita anche nelle pubblicità della l'italia ma questo è sicuramente un brano che avrete sentito da qualche altra parte se non avete mai sentito godetevi l'ascolto dell'immensità